14 seggi per la maggioranza e 10 seggi per la minoranza. La composizione del consiglio comunale di Lanciano resta così com'è. Lo ha deciso il TAR di Pescara respingendo il ricorso promosso all'indomani del turno di ballottaggio dal candidato sindaco del centrodestra, dalla sua lista civica e dagli eletti dell'Udc, oltre che dai diretti interessati Riccardo Lamorgia e Angelo Palmieri, primi dei non eletti. Ermando Bozza e la coalizione che lo sostiene alle elezioni di maggio, avevano chiesto al Tribunale amministrativo regionale l'annullamento del premio di maggioranza, assegnato dall'ufficio elettorale del Tribunale di Lanciano al sindaco in carica Mario Pupillo. Secondo i ricorrenti oggi all'opposizione, l'attribuzione di eseggi avrebbe dovuto tenere in considerazione i soli risultati delle liste collegate ai candidati a sindaco dopo il primo turno. Le liste di Bozza riportarono il 51,85%, quelle di Pupillo poco meno del 30%. In questo caso si sarebbe delineata una composizione del Consiglio Comunale di Lanciano sfavorevole alla coalizione vincitrice. Il raggruppamento di partiti di centrodestra avrebbe avuto ben 13 consiglieri su 24, mentre 7 sarebbero andati alla coalizione di Pupillo, più lo stesso sindaco in quanto eletto, e due ciascuno ai raggruppamenti civici di Pino Valente e Donato Di Fonzo, di fatto una situazione ingovernabile. Ma i ricorsi presentati al TAR sulla composizione dell'assise civica frentana sono stati due. Il Tribunale amministrativo ha rigettato anche il ricorso di Vincenzo Maranzano, primo dei non eletti nel Partito Democratico, il quale aveva chiesto al TAR l'attribuzione del quindicesimo seggio nel luogo di Luca Antonelli, unico consigliere eletto di Energie Nuove, civica di centrodestra. Il PDL non demorde e preannuncia ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del TAR Pescara. Vogliamo fare dei ragionamenti e capire il perché di questa voglia di rinnovamento che in qualche modo si è manifestata in questa città sia nato e crescita.